Un suono, un bollone... Certo! Giordano Bruno Casadino qui in campuzziato per pensare nel San Rogo No, Savonarola! Un senatore! Cos'è cos'è cos'è? Perfetto così! Così è perfetto! È una bella immagine! Guarda Chisinao che cazzo sta facendo! Fa le foto alle nari! Amico! Com'è amico? No, no, no! Ti fu un Paolini! Ti fu un Paolini! Natascia! Bella! Cosa sta? Focaccia che sta bene! All'indietro prendi me a fuoco e vediamo se viene qualcosa di docente! Sì, il video... quello a fotocamera... quello a videocitofono e focaccia lo faccio io! I calzini da Marinaretto! Guarda! Fai la ripresa per i calzini! I calzini a rica e bianche a blu! No, no, no! Fai vedere il calzino! L'aeroporto di Sinferopoli è occupato dalle milizie russe! Dalle milizie russe! Vi ricordi dell'aeroporto di Sinferopoli? Cammina veloce! Dai, vai, vai! Veloce, veloce! Ho perso un guardo, penso! Ho perso un guardo? Sì! Guardate, guardate il mio focale! Guardatelo bene! È un regista! È arte, quello! Oggi! Guardate! Guardate, guardate il mio norr piatto. Vieni qui, vieni qua! Vieni qui! Alla parte la pezza! Un bel 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 bel. Che merda, non c'entra adesso! Ma passi! non ce la fanno i belli non ce la fanno a sinistra è per il campo umanino esatto bravo Randi era bello Randi non stava mai male provato si ho fatto chilometri dove era? era qui sembra una nube di fish che schifo che era la rava Grazie a tutti.